Buonasera, ci ritroviamo al nostro Monday Night e questa volta il viaggio ci porta ad Urbino per visitare un palazzo meraviglioso che è il Palazzo Ducale di Urbino, simbolo della bellissima e ricchissima corte rinascimentale del Duca di Montefeltro, appunto Federico. Nel 1462 Federico da Montefeltro vinse una battaglia importantissima a Cesano contro il principe rivale Sicismondo da Malatesta e da lì successo e denaro gli portò quindi alla consapevolezza di volersi costruire un palazzo principesco nella sua Urbino per dare lustro ad una delle corti più illuminate, una delle corti più attive del rinascimento italiano. Federico da Montefeltro ingaggiò uno dei più grandi architetti, Luciano Laurana, proprio per progettare questo meraviglioso palazzo che è di una bellezza incredibile ed è diventato il simbolo, il punto focale proprio di Urbino, tanto che lo stesso Baldastare Castiglione in quell'opera che celebra appunto la corte di Montefeltro lo definì appunto città-palazzo proprio Urbino stessa proprio perché il palazzo ducale la rappresenta al massimo. Luciano Laurana vi lavora dal 1464 al 1472 riprendendo anche dei lavori di Maso di Bartolomeo, Brunelleschiano che era già attivo in Urbino per poi lasciare quindi i lavori una volta che lui andò a Napoli al Francesco di Giorgio di Martini, altro grande architetto famoso più per le fortezze soprattutto e per quelle roccaforti militari nel Montefeltro e quindi anche nelle Marche ma anche in altri territori come la Toscana e come anche la Romagna e questo personaggio appunto completò quindi l'opera. Luciano Laurana poi lo ritroviamo a Napoli al Maschio Angioino dove realizzerà quella bellissima opera anche scultorea sull'atrio appunto del Maschio Angioino che celebra Alfonso V d'Aragone il Magnanimo nell'entrata a Napoli. Con questi prestigiosi architetti non poteva che venire fuori questo bellissimo palazzo quindi che ha uno stile quindi gotico fiavesco ma che praticamente è nel fulcro, è nel pieno quindi del Rinascimento e tra le bellezze di questo palazzo spicca non soltanto quei torincini appunto che lo caratterizzano non solo il Tempietto delle Muse con quel bellissimo soffitto romanico classicheggiante e la mano poi di Santi il padre di Raffaello Sanzio e di Timoteo Viti ma lo studiolo del Duca è quel meraviglioso scrigno che noi troviamo all'interno del palazzo Ducale. Federico da Montefeltro l'ha voluto diciamo che fosse realizzato con tutto ciò che lui amava quindi non solo l'arte della guerra e la sua appunto potenza quindi militare e qui vediamo quindi armature possiamo trovare quindi anche armi riprodotti in queste bellissime tarsi di legno ma anche come vedete quindi anche libri anche raffigurazioni anche la musica gli strumenti musicali il liuto rappresentato in modo magistrale e questo lavoro tutto di intarsio artigianale creativo e di Benedetto da Magliano un scultore artista che poi è artigiano che lo ritroveremo poi anche lui a Napoli in alcune opere scultore importanti a Sant'Anna dei Lombardi. Nello studiolo del Duca troviamo tra l'altro il punto focale vedete quel cesto di frutta che pone sicuramente uno dei primi cesti di natura morta addirittura anticipando come vedete quasi di più di cento anni il grande Caravaggio e quindi il melograno che rappresenta quindi l'abbondanza e quello scogliattolo che invece rappresenta la prudenza e poi quel bellissimo paesaggio molto caratteristico del territorio di Urbino che appunto siamo in pieno Montefelto che intravediamo attraverso le loggie. Ci sono poi c'erano 28 anche raffigurazioni ci sono ancora soltanto che di queste raffigurazioni dei grandissimi personaggi quindi della cultura e del sapere del tempo passato e di quello presente Aristotele, Platone, Dante, Petrarca, Euclide. Di tutti questi personaggi i 14 sono originali mentre le altre sono delle copie perché le originali sono state poi spogliate da Napoleone Bonaparte e portate quindi a Parigi. quindi di queste rappresentanze di questi grandi noi abbiamo l'originale quindi di soltanto 14 come appunto vi dicevo figure. E quindi la corte urbinata resa splendida in questo palazzo ducale bellissimo anche il cortile latrio come vedete quando si entra il cortile c'è questo gioco cromatico architettonico molto bello di una rifinitura notevole come anche quei capitelli appunto corinzi che noi appunto troviamo nel cortile. Dopo aver lasciato anche la meraviglia dello studiolo dobbiamo anche fare un riferimento a qualche capolavoro che abbiamo dentro perché teniamo conto che adesso c'è la Galleria Nazionale delle Marche, il palazzo ducale è arricchito da capolavori come per esempio la città ideale che fu un'opera voluta da Federico da Montefeltro, incaricò Luciano Laurana anche se per tanto tempo era difficile individuare anche la paternità si pensava addirittura a Leon Battista Alberti o Piero della Francesca ma si è poi risalito a Luciano Laurana che rappresenta quindi questa armonia quindi e poi l'apoteosi dell'umanesimo vedete la perfezione della città ideale, silenzio assoluto non ci sono esseri viventi e questa armonia proprio architettonica e in tutto questo appunto quasi rappresentare la città di Dio di Sant'Agostino il dipinto questo qua è presente all'interno quindi come dicevo della Galleria Nazionale all'interno del palazzo ducale. Ferricola Montefeltro, il duca quindi che ha reso grande quindi urbino e il palazzo ducale come punto di riferimento della sua corte si circondava quindi di personaggi come Leon Battista Alberti come Piero della Francesca e qui c'è anche un dipinto molto famoso che è quello della flagellazione. Personaggi diciamo come Pedro Buruguete che realizzerò quel meraviglioso ritratto dove riproduce il duca in quell'armatura poi ricoperto dall'ermellino quindi come per dire la sua potenza militare ma anche la sua potenza culturale e poi il figlio Guidobaldo in quel bellissimo dipinto ricco di dettagli opera quindi di un grandissimo artista Buruguete come vi dicevo del 1476. Guidobaldo da Montefeltro il figlio di Federico da Montefeltro anche lui grande mecenate e nello stesso tempo personaggio di alta cultura si arricchì la corte con personaggi come Raffaello Bramantino, Signorelli e quindi Barlassare Castiglione con l'opera magistrale appunto del cortegiano che racconta e ci descrive in modo perfetto quindi la corte ducale del Montefeltro quindi urbinate e con tutti questi personaggi quindi arricchiscono questo bellissimo palazzo che diventa il fulcro portante proprio della corte. Tra l'altro Federico Montefeltro l'arricchì anche di una delle biblioteche più ricche a livello rinascimentale che noi troviamo e come perla assoluta della Galleria Nazionale delle Marche che vi ripeto è all'interno del palazzo è la muta di Raffaello Sanzio che poi rappresenta nella sua raffinatezza e nella classe d'eleganza proprio di Raffaello la Giovanna Feltria compagna e donna di Giovanni della Rovere che saranno coloro che seguiranno i della Rovere la dinastia dei Montefeltro, dei Duca di Montefeltro. E dopo questo bellissimo viaggio che abbiamo fatto nella città di Urbino per visitare il palazzo ducale vi lascio come appuntamento lunedì prossimo per un bellissimo viaggio nel sud Italia. Alla prossima!